Musica Ben ritrovati con l'informazione, apriamo il nostro giornale con un fatto di cronaca. Dramma in pieno giorno fuori dal San Antonio dove un uomo si è accasciato in strada, morendo sul marciapiede, aveva appena firmato le dimissioni volontarie per uscire dall'ospedale in via Facciolati, ma alle 14.30 di oggi pomeriggio, dopo pochi minuti, è piombato al suolo senza più riprendersi. La vittima è un uomo di circa 70 anni, secondo le prime indiscrezioni, stroncato da un probabile arresto cardiocircolatorio. Il riservo sulla vicenda è massimo. Una mattinata intensa e proficua per il generale Aldo Visone che in città, per assistere alla cerimonia della Virgo Fidelis per festeggiare l'arma dei carabinieri, ha fatto visita anche al primo cittadino ricevendo il prestigioso sigillo della città. La ricorrenza della Virgo Fidelis, protettrice dei carabinieri, si è svolta alle 11 di questa mattina nella suggestiva cornice della Basilica del Santo che da anni ospita la celebrazione a cui quest'anno si è unito anche il ricordo della giornata dell'orfano. A ufficiale la Santa Messa è stato l'arcivescovo Fabio Dalcin, delegato pontificio della Basilica davanti ai massimi esponenti dell'arma e dell'autorità civile regionale. Fra i molti fedeli nelle prime file c'erano anche, dicevamo, Aldo Visone, il comandante interregionale dei carabinieri, Vittorio Veneto e il generale Giuseppe Lagala, comandante della legione carabinieri Veneto. Insieme a loro una folta rappresentanza di ufficiali brigadieri e marciali appuntati insieme ai militari in servizio e in congedo, oltre a molti familiari, dei carabinieri deceduti. Nei prossimi mesi, lo ricordiamo, il servizio dell'alto ufficiale giungerà al termine ed entrambe le parti, stiamo parlando del sindaco e ovviamente del generale Visone, ovviamente hanno voluto celebrare il momento di saluto con due doni simbolici. Ma questa mattina abbiamo anche avuto l'occasione di sentire alcune parole del generale sulla sicurezza garantita dell'arma e la vicinanza alla popolazione. Poi è stata anche l'occasione di incontrare il prefetto di Padova e quindi sul solciato della Basilica di Sant'Antonio anche l'assessore regionale allo sviluppo, Roberto Marcato. Vediamo. ...per fare il punto sul ruolo dell'arma, com'è cambiato il ruolo dell'arma degli uomini e delle donne dell'arma oggi? Io non credo che sia cambiato, il ruolo è immutato, si è consolidata una professionalità, si è sviluppata una presenza sul territorio ancora più dimensionata, ancora più chiara, incontrovertibile. Farsi pensare che vi sono molti presidi che sul territorio vivono una condizione esclusiva, cioè le uniche strutture di sicurezza che presso le comunità, anche in territori abbastanza particolari, sono presenti e questo è certamente significativo e ci impone la necessità di essere sempre più attrezzati per le sfide che la sicurezza pubblica pone, alle quali rispondiamo con risultati che appaiono apprezzabili e che naturalmente sono condivisi perché sono ottenuti anche certamente grazie all'apporto di tutti gli apparati di sicurezza. Ci sono momenti in cui la fiducia della gente nelle forze di polizia sembra vacillare, la fiducia della gente nei confronti dell'arma, secondo lei oggi com'è? Io ho la sensazione, se non la certezza, che la fiducia della gente nei confronti delle istituzioni e degli apparati di sicurezza non abbia subito modifiche né condizionamenti né limitazioni. Per quanto riguarda l'arma, credo che nei fatti, nella simpatia e nella condivisione, ma anche nella partecipazione della gente, vi sia una dimostrazione di affetto, di stima e di considerazione, ciò che noi proviamo nei confronti delle comunità che sono nella nostra disponibilità per quanto riguarda le esigenze di sicurezza. Festa dell'arma dei carabinieri, Marcato, lei sempre più vicino alle forze dell'ordine? Sì, da sempre perché sono le nostre sentinelle, sono le persone che ci proteggono e hanno una dedizione al territorio e al popolo che è davvero straordinaria ed è giusto essere presenti per riconoscere il ruolo meraviglioso che hanno nel nostro paese. La vicinanza soprattutto della forza dell'ordine, in modo particolare i carabinieri, anche in quei piccoli paesi del Bellunese, per esempio? Sono stati elementi preziosissimi, si sono dati da fare subito e devo dire che sono sempre presenti quando c'è bisogno. D'altronde anche nei piccoli paesi sono presidi di sicurezza importantissimi. E a proposito di sicurezza, parliamo della sicurezza in Veneto? Sì, diciamo che è una regione complessa ma il rapporto con le forze dell'ordine è sempre molto fermo e molto significativo. Io sono ottimista, i problemi ci sono, però devo dire che abbiamo rappresentanti delle forze dell'ordine assolutamente all'altezza del loro compito. Presentato in conferenza stampa, uno strumento che può essere molto utile per orientarsi rispetto all'allerta, inquinamento, la presenza delle PM10, livello quindi anche le zone dove nel caso questo sfori i parametri o ci siano delle limitazioni ai veicoli. Il bot, così si chiama, è aggiornato con tutti i comuni del Veneto utilizzando la piattaforma Telegram e consta in un'app da scaricare gratuitamente sul proprio telefonino. Vediamo. Era un obiettivo che abbiamo avuto fin dall'inizio, cercare di migliorare l'informazione anche con mezzi di informazione e canalizzazione delle necessità un po' più moderni. Ci siamo arrivati, ci siamo arrivati con questo bot Telegram a cui abbiamo lavorato come settore ambiente insieme con i servizi informatici. Nel lavorarci è nato qualcosa di più, è nata una collaborazione con ARPAV che quindi ha reso ancora più articolato questo strumento molto semplice, quindi iscrivendosi a Telegram con tutte le istruzioni che troverete anche sul sito quindi Allarme Veneto PM10. Si potrà essere immediatamente informati il lunedì e il giovedì dello Stato che poi porta all'ordinanza delle limitazioni conseguenti, ma soprattutto uno strumento che il Comune di Padova mette a disposizione anche di tutta la Regione, posto che tramite la collaborazione con ARPAV siamo riusciti a creare uno strumento a disposizione di tutti, quindi anche della qualità dell'aria di tutta la Regione. Uno strumento in più per una grande fascia della comunicazione che finalmente ci proietta anche un po' nel millennio in cui viviamo. Tutto in una notte, intorno a Padova come in altre città italiane il Black Friday. A partire dalle 20.30 di venerdì fino alle 23.30 in centro torna l'appuntamento con la notte dei super sconti con percentuali da capogiro che possono essere addirittura dell'80%. Solo i negozi con il marchio Black Friday attueranno soltanto su un limitato numero di capi, gli sconti impossibili. Vediamo. Il numero anche dei negozi è già una novità in sé perché mi ricordo che sei anni fa quando siamo partiti eravamo a più di 150 aderenti, adesso siamo arrivati a 400 aderenti, quindi vuol dire che la città e soprattutto i commercianti hanno recepito questa manifestazione nel motivo giusto. Quindi è una promozione che viene fatta all'interno dei negozi, quindi è il negoziante che è l'attore principale. È un evento che si basa appunto su una scontistica che riguarda un certo periodo e quindi fa venire a Padova migliaia e migliaia di persone per prima per vedere il prodotto e accapararsi il prodotto e poi per l'acquisto del prodotto nella serata delle tre ore. Quindi diciamo è incentivare appunto la gente a evitare un attimino anche i centri commerciali e farli venire in città. I piccoli negozi sono quelli che hanno aderito anche con una partecipazione costante. Quindi abbiamo centrato l'obiettivo che era quello della promozione e di fare attori i negozianti. Non serve nessun tipo di evento di sostegno. Il Black Friday è un evento per conto suo. Si tratta solo di comunicazione e di promozione. Io spero che questo sia un motivo di rilancio appunto da un periodo un po' grigio che vediamo. Il freddo è partito da pochi giorni, il caldo è perdurato. È stata una stagione lunga. Adesso ci sono i negozi e i magazzini che sono pieni di prodotti e quindi devono essere smartiti in previsione di un Natale e quindi per far conoscere i prodotti e che un Natale produca l'effetto che tutti ci speriamo di gioia e soprattutto anche di economia. Dopo la bella esperienza dell'anno scorso con il Black Spritz, quest'anno il barman Gianni Rebecca ha ideato due cocktail, uno analcolico e uno leggermente alcolico, il Black Ginger e il Black Crazy Negroni. Sul sito del Black Friday e anche sul sito dell'app è presente il video tutorial su come realizzare il cocktail. Sono ingredienti di facile reperibilità così sia i baristi ma anche i privati a casa propria possono provare a realizzarli. Invitiamo tutti i baristi a declinare o questi cocktail o comunque qualche prodotto sia gastronomico ma anche bevande a tema con la serata del Black Friday in maniera da proporre ed essere accoglienti nei confronti dei loro clienti. I locali potranno godere di una ordinanza sindacale che consente di un'ora in più di apertura, quindi i locali che solitamente chiudono le due di notte possono rimanere aperti fino alle tre, proprio in via del tutto eccezionale in occasione del Black Friday. Torniamo alla cronaca. Ieri pomeriggio sono stati effettuati massicci controlli intorno alla stazione ferroviaria di Padova, coordinati dall'acquistura di Padova con il supporto della Polfer, il reparto mobile prevenzione crimine del Veneto con l'aiuto della polizia locale. Dall'inizio dell'anno ad oggi l'ufficio immigrazione di Padova ha effettuato complessivamente 236 provvedimenti di espulsione, di cui 74 con accompagnamento ai centri di permanenza per i rimpatri. Il Comune di Padova e l'assessorato alle politiche di genere pari opportunità in stretta collaborazione con la rete di associazioni al femminile presenti sul territorio ha pianificato anche quest'anno una serie di iniziative di sensibilizzazione e informazione sul problema della violenza di genere in occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulla donna. Le iniziative prendono il via sabato 24 novembre con l'inaugurazione alle ore 11 al Centro Culturale Altinate San Gaetano con la mostra solidale Codice Rosso che rimane aperta fino al 2 dicembre al pubblico, 15 artisti, 15 opere e un unico filo conduttore, il colore. Il rosso appunto è tradizionalmente legato alla violenza di genere e l'arancione dichiarato dall'ONU il colore simbolo della giornata. L'esposizione sarà gratuita ed è abbinata ad una lotteria che mette in palio alcune opere offerte dagli artisti. Nell'ambito dell'esposizione Codice Rosso, sempre sabato 1 dicembre alle ore 11 allo spazio 35 del Centro Culturale San Gaetano è prevista anche la presentazione del libro di Vanessa Criconia Il filo di Polpora. All'evento partecipano le volontarie del Centro Anti-Violenza. Sì, noi abbiamo in questura un team specializzato, altamente specializzato per affrontare questa situazione di violenze, violenze domestiche, violenze di coppia, violenze nei confronti della donna. Quindi quando ci chiamano abbiamo degli agenti, degli operatori proprio formati per affrontare il disagio, sia disagio psicologico che disagio fisico chiaramente. E quindi vengono ascoltate e aiutate e forniamo tutti gli strumenti necessari, le informazioni necessarie per gli strumenti di tutela legale. Ma accanto a questa attività svolgiamo anche un'attività di prevenzione perché forse la battaglia più grande è quella proprio della prevenzione, volta ad informare la cittadinanza, i ragazzi, le donne stesse di quelli che sono appunto gli strumenti e le opportunità che hanno per poter uscire dal sommerso e denunciare quello che sta accadendo. Perché in realtà molto spesso le vittime di violenza di genere hanno difficoltà e paura ad uscire lo scoperto, proprio perché hanno paura che possa esserci un'escalation ulteriore di violenza nei loro confronti da parte del loro aguzzino. Il consiglio è superare la paura e venire da noi, chiamarci, perché noi saremo in grado di aiutarle e seguirle in tutto il percorso. Sono diverse le iniziative che il Centro Veneto Progetti Donna con Iris sta preparando per i giorni 24 e 25 novembre. Secondo i dati Istat, la violenza maschile sulle donne attraversa la vita di una donna su tre. Solo in provincia di Padova le donne accolte presso il centro in questi ultimi dieci mesi sono state 907 accompagnate da 632 bambini. Stranamente 609 di queste sono italiane e il 60% dei casi l'autore della violenza è il partner o l'ex partner. In questi mesi sono state accolte nelle case protette di Padova e di Este 32 donne con 40 figli minori. i dati preoccupanti presentati oggi in una conferenza stampa dove si è sottolineato che ben 5 donne hanno perso la vita per mano di un uomo. Diverse le iniziative di denuncia nei prossimi giorni e nelle diverse località della provincia. Vediamo. Il centro Veneto Progetti Donna ha accolto nei primi dieci mesi del 2018 907 donne provenienti da tutta la provincia. Insieme a queste donne c'erano 632 bambini e bambine minori sotto i 18 anni e la maggior parte delle donne che sono arrivate al centro antiviolenza riferivano episodi di violenza fisica e psicologica da parte del partner o dell'ex partner. Sono dati che sono in continuo aumento. Negli ultimi anni abbiamo un aumento costante delle richieste di aiuto ma è un aumento che ci fa ben sperare perché significa che le donne cominciano a fidarsi dei servizi antiviolenza e dei centri antiviolenza. La prima cosa che chiedono sono informazioni generiche sui loro diritti, su quello che possono fare e soprattutto le donne che hanno figli sono preoccupate per i figli perché sappiamo che la minaccia che viene più frequentemente detta dai partner maltrattanti è che appunto se la donna fa denuncia le porteranno via i figli. Questo è un falso mito da sfatare e le donne se si rivolgono al centro antiviolenza e se si rivolgono alla rete dei servizi potranno ottenere protezione e sostegno insieme ai loro figli e alle loro figlie. Torniamo alla cronaca. Da poco prima delle 11 di questa mattina i vigili del fuoco in via dell'industria a due ville in provincia di Vicenza sono intervenuti per un devastante incendio divampato all'interno di un'azienda di verniciatura industriale. Nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita. Appena scattato l'allarme antincendio tutto il personale è stato evacuato. I pompieri accorsi da Vicenza, Schio, Bassano e D'Arzegnano con otto automezzi antincendio e 28 operatori coadiuvati dal funzionario di servizio sono riusciti a circoscrivere le fiamme evitando il coinvolgimento all'intero cappannone che si sviluppa su due livelli di 3.000 metri quadri. Sul posto il personale Arpav e i carabinieri. A seguito di nuovi impegni professionali il consigliere Simone Borile del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale a Padova ha annunciato questa mattina le proprie dimissioni. Vediamo. Sarò impegnato nei prossimi mesi all'Università di Ferrara attraverso un progetto di ricerca quinto a livello nazionale che mi vedrà appunto impegnato nella stesura di un piano di emergenza in antropologia dei disastri. Fare il consigliere comunale significa dedicarsi a tempo pieno, significa essere presenti nel territorio e ahimè purtroppo questo impegno fuori regione mi vedrà lontano dal territorio di Padova. Dovrebbe subentrare mia sorella, Maila Borile, qualora non dovesse accettare invece l'incarico di consigliere toccherà Giacomo Cusumano che è stato tra l'altro alle primarie il mio diciamo contendente per quanto riguarda la carica sindaco. Noto al mondo per le sue imprese al limite dell'impossibile il padovano Giovanni Battista Belzoni, lo ricordiamo morto nel 1823, curiosamente poco noto in patria eppure è a lui che si deve la nascita della moderna egitologia. A far fronte e a far luce su questa singolare figura sarà la mostra all'Egitto di Belzoni, un gigante nella terra delle piramidi da ottobre 2019 a giugno 2020 al centro culturale Altinate San Gaetano. Bene, chiudiamo qui la nostra pagina di informazione ricordandovi l'appuntamento di questa sera alle ore 21 e 05 con Stammi Bene, un programma di medicina condotto in studio dalla collega Nicoletta Rizzi e poi vi ricordo come sempre il nostro sito www.cafettv24.it per essere aggiornati con l'informazione. Grazie per averci seguito e una buona giornata. Grazie per aver guardato il nostro video.